Pasqualino Monti ha reso nota l'agenda ed in parte i tempi dei lavori del porto di Trapani. Un incontro informativo con gli operatori portuali e i sindaci per fare il punto dell'attività dell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale. Monti è stato estremamente chiaro nel ribadire l'importanza del porto del capoluogo, attualmente in fase di totale trasformazione con lavori alla stazione marittima e dal molo sanità, con la nuova stazione per gli aliscafi, ormai operativa, recinzioni e cancellata modernate o in corso di sistemazione. Due però sono gli aspetti centrali attesissimi dagli operatori portuali, il piano regolatorio del porto e l'escavazione dei fondali. Per quanto riguarda il PRG, Monti ha spiegato che si sta procedendo con interventi mirati, stralciando di volta in volta delle zone dal vecchio PRG e operando secondo progetti ritenuti necessari. Questa procedura si è resa necessaria per poter intervenire in tempi rapidi poiché l'approvazione di un nuovo PRG richiederebbe troppo tempo e ogni necessaria innovazione rimarrebbe imbrigliata nelle maglie della burocrazia frenando le attività portuali. L'escavazione dei fondali, altro aspetto centrale, sembra ora procedere più speditamente sia negli aspetti finanziari sia dal punto di vista procedurale. Abbiamo lavorato tanto per arrivare al progetto esecutivo del dragaggio perché non è che si draga dall'oggi al domani. Per farlo abbiamo speso 2 milioni di euro di caratterizzazioni, abbiamo fatto la richiesta per ottenere tutte le autorizzazioni degli enti sovraordinati, quindi del Ministero dell'Ambiente della regione siciliana. Abbiamo elevato il progetto a finanziamento, l'abbiamo inserito all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Siamo felici perché è stato finanziato, quindi abbiamo 67,5 milioni. La settimana prossima, al massimo fra dieci giorni, firmerò la Convenzione con il Ministero. Stiamo attendendo solo l'ultima approvazione da parte del CTS regionale, che è stata l'approvazione un po' più lunga perché hanno una coda di valutazione di impatto ambientale molto lunga e quindi appena arriverà questa ultima autorizzazione, con la firma della Convenzione fra dieci giorni, noi partiremo immediatamente con la gara d'appalto per assegnare i lavori del dragaggio. Questa è un'opera fondamentale, come ha detto lei. Noi avevamo calcolato più o meno i tempi di realizzazione in circa un anno e mezzo, due anni. Siamo convinti di riuscire a farlo anche in un tempo inferiore rispetto ai due anni e siamo contenti perché questo ulteriore intervento diventa un po' la cornice di quello che lei ha detto prima, il fast ferry terminal, il terminal delle crociere, la stazione marittima, tutto il lungo porto, il concorso internazionale che ormai siamo alla fase della progettazione definitiva ed esecutiva. Però vorrei dire, dietro la realizzazione di un'opera, dietro l'ottenimento di un finanziamento, ricordiamoci sempre, raccontiamo alle persone, alla gente che ci guarda, che c'è un grande lavoro per arrivare ad ottenerlo, perché c'è una fase di progetto che è molto lunga sulla quale noi abbiamo posto davvero grande attenzione. Sull'approfondimento, io vado a memoria, ricordo che un primo progetto, una prima bolsa progettuale, si parlerà di un approfondimento fino a 12 metri. Quando partirà l'escavazione, fino a che punto si scaverà nel punto più profondo del porto? In alcuni casi a 14 metri, in alcuni casi a 12 metri, in altri casi a 10 metri. Dove c'è la cantieristica certamente a 10 metri dovremmo inserirci dentro, cercando di non andare ad intaccare il lavoro che è presente all'interno di quegli spazi, perché è vitale, sono attività che sebbene di piccola entità, in taluni casi, in tal altri un po' più grandi, però meritano assoluto rispetto, quindi non possiamo dragare e non consentire agli operatori di lavorare. Quindi abbiamo fatto un cronoprogramma delle opere che va nella direzione di essere accorti rispetto a tutte le esigenze dei nostri operatori, di chi lavora e di chi giustamente vuole proseguire a farlo senza avere interruzione.